Buongiorno a tutti. Dopo essere stato approvata al Senato la legge di conversione del decreto scuola si accinge ad essere votata anche alla Camera dove il Governo ha posto la questione di fiducia. Tra vari emendamenti proposti ed approvati in Commissione e in Aula già al Senato viene uno che riguarda anche la procedura di accesso al quinto ciclo del TFA di sostegno. In particolare è prevista la possibilità per i docenti che abbiano maturato almeno tre anni di servizio su post di sostegno di accedere direttamente alle prove scritte della procedura di accesso al quinto ciclo del TFA di sostegno. Sicuramente si tratta di una modifica in corsa alla procedura che altera sensibilmente gli equilibri di una procedura già scossa dall'emergenza coronavirus. Sappiamo infatti che rispetto alle date originariamente prefissate per lo svolgimento delle prove il tutto è stato stravolto dall'emergenza per la pandemia le date delle prove preselettive sono slittate a dopo l'estate. Ma non è solo questo perché molti atenei anziché limitarsi a far slittare come è previsto dal provvedimento a carattere nazionale le date delle prove preselettive hanno anche riaperto i termini per la presentazione delle domande e pertanto stravolgendo sostanzialmente quello che era il quadro che si era delineato rispetto al primo termine di scadenza. In effetti in alcuni atenei rispetto ai posti disponibili e alle domande presentate si era profilata anche la possibilità di evitare lo svolgimento delle prove preselettive e svolgere direttamente le prove scritte. La riapertura dei termini tuttavia ha riaperto i giochi perché ha richiamato molti aspiranti che avevano deciso di non presentare la domanda in un primo momento quindi aumentando la platea dei candidati e quindi facendo rientrare la possibilità dello svolgimento della prova preselettiva per tutti. Naturalmente in danno di chi soprattutto aveva già deciso sin da un primo momento di partecipare alla procedura presentando la relativa domanda. A ciò si aggiunga anche come detto l'emendamento approvato alla legge di conversione del decreto scuola che adesso consentirebbe a chi ha maturato tre anni di servizio su posto di sostegno di accedere direttamente alla prova scritta senza svolgere la preselezione. Si tratta in effetti di un'alterazione del principio della par condicio dei concorrenti perché sostanzialmente consente ad alcuni soltanto di partecipare a regole diverse sicuramente più semplici rispetto agli altri. Sarebbero auspicabili dei correttivi a questo punto per riequilibrare il tutto. Uno potrebbe essere l'aumento dei posti disponibili oppure prevedere una procedura doc per coloro che hanno maturato i tre anni di servizio su sostegno. Grazie e arrivederci. Grazie a tutti.